questa magia possiamo chiamare la magia la magia densa è la magia densa è una magia densa lascia bocca aperta attenti per fare questa magia ci vogliono poche cose però purtroppo una cosa dobbiamo usarla e poi si magari si può riutilizzare non è detto però guardate ci vuole un bicchierino d'olio olio e un bicchierino d'acqua ci abbiamo messo dentro qualcosa da colorarlo un cartoncino adesso una magia l'abbiamo fatta tanto tempo fa magia magica che magari non viene perché è difficile metteremo cartoncino come se fosse un tappo sopra il mio bicchierino poi girerò attenzione e come qualcuno probabilmente forse potrebbe no 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 barsi dovrebbe però la magia non è questa adesso metto questo qua sopra adesso piano 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 toglierò il cartoncino e vediamo cosa succede dentro i due bicchieri uno sopra l'altro vediamo uno sopra l'altro uno sopra l'altro e vediamo piano 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 attenzione 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 guardate cosa è successo se qualcuno si ricorda all'inizio l'acqua colorata era sotto l'olio era sopra adesso no hai detto l'acqua colorata era sopra l'acqua colorata era sopra l'olio era sotto adesso l'olio è andato su l'acqua andata giù e si sono scambiati di posto vediamo chi mi sa spiegare perché si sono scambiati di posto in questo modo magico maще grazie a tutti Grazie.